Ehi, clicca il link sotto in descrizione, potrei essere tu ad aggiudicarti il buono Amazon da 5€ Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Sto parlando piano perché è appena finito il keynote, non scherzo, ne è appena finito ma quasi Sono le 23.40 e in questo momento sto registrando il video Che voi vedrete il giorno dopo il keynote ma questa è la sera stessa E tutta questa notte la passerò ad editare il video Quindi guardatevelo fino alla fine, vi prego Comunque vediamo tutto questo dopo la sigla Ragazzi, prima di iniziare voglio annunciare che ho quasi stretto una collaborazione con un'azienda, speriamo E forse riescono a fornirmi gli iPhone per fare gli unboxing Quindi sul canale potrete vedere gli unboxing Restate assolutamente sintonizzati e se non siete iscritti ovviamente iscrivetevi, tanto è gratis Comunque partiamo da iOS, diciamo dal software iOS 12 insieme a WatchOS 5 usciranno il 17 settembre dagli iPhone dal 5S in su Mentre per gli Apple Watch verrà solo esclusa la serie 0 Quindi la serie 1, serie 2, serie 3 e serie 4 appunto saranno aggiornabili tranquillamente Senza nessun alcun tipo di problema Adesso ragazzi, se guardo ogni tanto qui è perché non mi ricordo tutto E mi sono scritto sul Mac cosa dire e cosa no In ogni caso partiamo da Apple Watch Ragazzi è stato presentato Apple Watch la serie 4 finalmente Che dovrebbe aver portato qualche cambiamento Qualche cambiamento l'ha portato seriamente Ma la cosa su cui mi focalizzerei di più è l'LTE di fianco alla serie 4 In poche parole in Italia, grazie a una collaborazione tra Apple e Vodafone Finalmente possiamo avere l'LTE all'interno dell'orologio Quindi finalmente possiamo sbloccare quelle funzioni che già in America e in altri paesi c'erano già Quindi ad esempio possiamo chiamare e usare diciamo il web direttamente dall'orologio Senza dover per forza collegare via Bluetooth il telefono Tutto questo avviene tramite un meccanismo di eSIM Praticamente una SIM virtuale che si è già installata dentro l'orologio E tramite un QR code praticamente viene riconosciuta dall'orologio e dall'operatore Comunque ragazzi i prezzi sono veramente alti Parliamo un attimo di prezzi Solo per la versione GPS che è disponibile in 26 paesi tra cui l'Italia Il prezzo è di 439 euro Un prezzo molto alto Poi si può arrivare con la versione LTE che è la funzione che vi ho detto adesso Che praticamente funziona con il meccanismo di eSIM Il prezzo è di 539 euro Sono prezzi veramente tanti e tanto alti ragazzi quest'anno Ne aspettiamo ad esempio anche dopo vedremo l'iPhone che per fortuna era l'iPhone economico Che qui ragazzi dobbiamo sborciare un rene o anche due Poi ragazzi una cosa da sottolineare è che è rimasta la serie 3 Ancora adesso è possibile acquistarla al prezzo della serie 1 E ad esempio ragazzi la serie 1 e al momento cioè da quando usciranno gli ordini Che escono il ragazzi comunque è rimasta la serie 3 Ed è possibile acquistarla al prezzo della serie 1 in questo momento Quindi ragazzi per 309 euro è molto consigliata anche la serie 3 Io ragazzi fate conto che con la serie 1 mi trovo veramente veramente bene Non la cambierei per il momento Comprerò gli oggetti solo per fare l'unboxing In questo ultimo keynote non credo di comprare appunto niente per me Dunque vediamo le caratteristiche Allora hanno messo finalmente un nuovo speaker Perché quando io parlo con color roggio intanto parlo e quando sento Perché ragazzi hanno migliorato sia lo speaker che il microfono Devo dire che fanno abbastanza schifo almeno sulla serie 1 E finalmente diciamo che con la serie 4 hanno migliorato questa cosa Perché era veramente necessaria Adesso vi faccio un attimo un elenco delle cose che hanno migliorato Hanno migliorato anche GPS, battito cardiaco Il display diventa il 32 e il 35% più ampio Quindi ragazzi non avremo più tutti questi bordi giganti Ma sarà diciamo quasi un tutto schermo come l'iPhone X iPhone X che per il momento non è più in commercio Vedremo dopo come in ogni caso Poi ci sarà un processore S4 che è molto più performante Ed è stata anche migliorata la batteria Poi una cosa che ha una cosa importantissima Lo spessore dell'Apple Watch è cambiato e come vi ho detto prima È aumentata la batteria Cosa veramente apprezzata perché questo sembra veramente una roba oscena Un'altra cosa che a me resta lasciato abbastanza perplesso No, è una funzione utile per carità Specialmente per gli anziani È praticamente che monitora le cadute Certamente a me non mi interessa che quando io cado Chiami un messaggio a mia mamma dicendo che sono caduto dalla bici A me non mi interessa quindi per me questa è almeno per i giovani È una funzione non molto interessante Però per i più anziani può essere veramente fondamentale Ogni caso sa che non capisco che i più anziani non hanno un Apple Watch Quindi per me Apple si doveva concentrare su altro Come ha già fatto perché comunque ragazzi Ha introdotto anche un misuratore di battito cardiaco veramente importante Comunque per tutte queste informazioni che sono veramente dettagliate Vi lascio il sito Apple sotto in descrizione Passiamo agli iPhone Allora sono stati presentati tre iPhone Due che si chiamano iPhone XS E un altro che si chiama iPhone X Max Mi fanno un sacco ridori i nomi perché l'iPhone XS Diciamo possiamo vederlo come una grandezza di un pochino più di un iPhone 8 Mentre l'iPhone Max è più di un iPhone 7 Plus Quindi c'è nella scala di grandezza iPhone XS iPhone 8 Plus e iPhone X Max Cioè io non so i nomi Il prossimo anno come saranno Perché metti che faranno un iPhone da 7 pollici Cioè come si chiamerà il dispositivo iPhone XS Plus Max Una roba del genere non si può sentire Quindi speriamo che dal prossimo anno cambino un pochino i nomi Comunque le feature più importanti di questi due dispositivi Sono che finalmente sono IP68 L'IP68 è coperto dalla garanzia E hanno fatto dei test e può essere anche immerso Non solo nei liquidi come l'acqua dolce Ma anche nell'acqua salata oppure vino o birra Non so chi sia il demente che butta il proprio iPhone Da 1200 euro nel vino o nella birra Però dettagli Allora finalmente possiamo vedere Il FSD di nuova generazione Che dicono essere molto veloce Però questo è da provare ovviamente sul campo Poi ci sarà un vetro molto più resistente Di quello attuale nell'iPhone X Poi ovviamente hanno Quest'anno sono incentrati anche nell'Apple Watch Cioè in tutti gli iPhone Dappertutto Sono incentrati molto sullo speaker L'hanno migliorato veramente tanto Hanno puntato molto sullo stereo visto Da tutto il keynote Poi finalmente la fotocamera frontale Può registrare i video in full HD 60 frame Che a mio parere è una funzione veramente Ma veramente comoda Poi finalmente hanno dato tanta attenzione Al machine learning Che praticamente l'iPhone cerca di imparare Le nostre abitudini Oppure le Siri shortcut Che possono aiutare veramente tanto Infatti non vedo l'ora di provarle Quando metterò le mani su questi nuovi iPhone Poi hanno aggiunto il taglio da 512 giga Che è una cosa veramente importante per chi lavora Perché questi iPhone diciamo ragazzi Sono per chi lavora Dopo vi farò vedere il modello Che serve per noi ragazzi Poi hanno migliorato l'effetto bocchè E tantissimo l'HDR Una cosa su cui hanno puntato tanto è l'HDR Diciamo la parte multimediale È stata la parte diciamo più discussa In questo keynote Hanno aggiunto uno slider Per modificare l'apertura focale E questo permette di modificare La messa a fuoco delle foto In post produzione Quindi ci basterà ad esempio Cliccare su modifica E modificare tramite lo slider Se vogliamo più fuoco o meno fuoco Una cosa veramente importante Finalmente sono dual sim questi dispositivi E in Cina sono realmente dual sim Cioè puoi mettere una sim e la seconda sim Mentre nel resto dei paesi Sì sono dual sim Ma una sim fisica e una e sim Quella che c'è anche nell'Apple Watch Non so quanto possa avere senso Però comunque sappiamo che Apple Quando fa le cose le fa quasi sempre bene Quindi speriamo che questo sia qualcosa che andrà avanti E non un flop Dopo tutta questa parpardella Su questi nuovi dispositivi Ho tralasciato qualche funzione Ma comunque le funzioni principali sono queste È il momento di passare all'iPhone Diciamo più per ragazzi Io lo definirei Non per persone che lavorano Che è un iPhone a mio parere migliore di sempre Qualità prezzo è fenomenale Ragazzi è qualcosa di fantastico Il suo nome fa abbastanza schifo XR La R non abbiamo ancora nessuno su YouTube Italia Perché prima che sono visto qualche video Ha capito cosa possa indicare quella R Io non l'ho capito Infatti Sono abbastanza perplesso Almeno iPhone 5C Qui ne ho uno Io ho più iPhone 5C iPhone 5C la C stava per color Qui non abbiamo capito In ogni caso Ha quasi tutte le caratteristiche Dell'iPhone XS e XS Max L'unica cosa è che Ha ovviamente delle minoranze In generale Non ha il 3D Touch Ma una cosa che ragazzi Da quello che ho visto Sono riusciti comunque ad implementare Tramite software Non tramite hardware Poi ovviamente lo schermo Non è OLED Ma è LCD Però comunque ragazzi Come ben sappiamo Sugli iPhone abbiamo avuto sempre Gli schermi LCD Che sono veramente fenomenali Poi quest'anno l'iPhone Lo schermo LCD Si chiama Retina Liquid Io non ho capito Il significato di tutto questo Comunque vedremo Da quello che ho letto In ogni caso È un LCD normale È un pochino più spesso Perché l'LCD Richiede un pochino più di spazio E poi non ha La doppia SIM Una cosa che Per noi ragazzi Ragazzi Non è fondamentale Quindi possiamo anche Tralasciare tutto questo È un dispositivo Veramente fantastico Sotto tutti i punti di vista A mio parere Io lo comprirei subito ragazzi Solo che in questo momento Sto investendo un sacco di soldi In un progetto Che vedrete Più là E il prezzo Di questo dispositivo È di 189 euro Veramente alto Lo so Se io dovessi cambiare dispositivo Prenderei questo In ogni caso Mi sono dimenticato Prima di dirvi I prezzi Dell'iPhone XS E XS Max Faccio ancora un pochino Di confusione Con i nomi Perché ovviamente Da poco che Li ho sentiti Poi ovviamente Mi devo abituare Comunque il prezzo Dell'iPhone XS Costa 1189 euro Mentre dell'iPhone XS Max Il prezzo è di 1289 Quest'anno ragazzi I prezzi sono veramente Sorbitanti Come abbiamo visto Tutti si aspettavano L'AirPower E l'AirPod Di seconda generazione Non abbiamo visto niente Di tutto questo Ma per me A mio parere Tra poco ci sarà Un altro evento Apple sicuramente Per presentare Il Mac Mini Che per me È una scelta Veramente È una cosa Che mi interessa Tanto Avendo un Mac Mini Il 2014 Un aggiornamento Di questa linea Mi piacerebbe un sacco Roba che Acquisterei sicuramente Mentre Per me Usciranno anche I nuovi iPad Con Simili All'iPhone X In generale Con i bordi Rotondati Eccetera Comunque Staremo a vedere Rimanete sintonizzati Perché sicuramente Riuscirò a fare L'unboxing Dei nuovi iPhone Io veramente lo spero Ragazzi Noi ci vediamo Ad un prossimo video Lasciate un like Iscrivetevi al canale Ragazzi È una cosa Veramente Molto fondamentale Specialmente Perché adesso Sono le 23 E 55 Ho appena finito Di registrare Questo video E devo editarlo Quindi ragazzi Iscrivetevi Come ho detto prima E Bello Ciao 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 Ciao